Eccomi qua, buongiorno a tutti, sempre a District of Smoke. Oggi facciamo maoredu, signorchietti sardi, con sugo di salsiccia e soffritto di aglio, cipolla e finocchietto. Aggiungiamo la salsiccia e facciamo rosolare bene. Facciamo brustolire bene la salsiccia. Aggiungiamo sotto un bel chunk al melo, chiudiamo copernia, aspettiamo 15 minuti e poi ci mettiamo la bella passata di pomodoro. Aggiungiamo due bottiglie di passata mutti al pomodoro basilico che a me piace molto. Altra bottiglia. Adesso risciacchiamo per bene, mettiamo quello che rimane, misciamo un po' e facciamo sobollire un tre orette. Dopo una bella misciata mettiamo il tappo quasi a coprire tutto, chiudiamo il coperchio e facciamo pippare un tre orette. Di tanto in tanto magari diamo un occhio di una bella misciata e via. Eccoci qua, dopo tre ore che il nostro soggettino ha pippato, si presenta così. Mamma mia che profumo. Ciao.